Ile Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria e perde la testa nel finale di partita chiudendo il match in nove per i rossi a Drudi, fallo da ultimo uomo e Rizzo, fallo a gioco fermo su un avversario. Il finale di partita fotografa il momento di una squadra quasi allo sbando e vittima dei suoi limiti con la contestazione dei tifosi che non ha risparmiato davvero nessuno. Auteri però resta al suo posto, come detto dal presidente Sebastiani al novantunesimo. La lucchese senza strafare porta a casa il punto che voleva, dopo 90 minuti di poca sofferenza. Pescara che illude al primo minuto con Veroli che in area scarica da ottima posizione su Coletta che respinge. Poi solo tanto possesso palla dei padroni di casa ma zero occasioni. Ile Pescara fa quello che può, ma per l'estremo difensore della formazione toscana nella prima frazione di gioco c'è davvero poco lavoro. Nella ripresa Pescara in campo con Ferrari al posto di un Rauti evanescente. All'ottavo minuto l'attaccante pescarese cade in area con l'arbitro che prima indica il dischetto e poi ci ripensa e assegna la punizione alla lucchese per l'offside dell'attaccante pescarese che aveva commesso anche fallo su un avversario. Al tredicesimo minuto Ferrari ci riprova di testa mandando il pallone di un soffio a lato. Poi solo tanta confusione e nervosismo con gli abruzzesi ad attaccare a testa bassa senza costrutto. Da segnalare solo un tiro di Dursi di pochissimo fuori. Al trentaquattresimo Auteri opera diverse sostituzioni ma in campo non accade nulla prima di un finale di partita indecoroso con una maxi rissa finale in campo e che vede l'espulsione prima di Drudi per fallo da ultimo uomo e poi di Rizzo nella mega rissa finale che coinvolge giocatori delle due squadre. Punto meritato per i rossoneri di Pagliuca che allungano la serie positiva confermando l'ottimo momento in stagione per il Pescara. Un'altra gara da dimenticare con la classifica sempre più anonima e con la gara di domenica prossima in casa del Grosseto che metterà in palio. Punti pesantissimi in terra maremmana, in panchina ci sarà Auteri. Il Pescara avrà diverse assenze ma questa volta non si potrà davvero sbagliare il rischio e di finire nel baratro di una crisi senza fine.